Stanno rientrando in questo momento, e lo vedete dalle immagini, gli studenti del liceo scientifico Einstein di Teramo. Qui questa mattina si è verificato l'ennesimo allarme bomba a Teramo. La situazione è stata gestita però in maniera diversa, perché la telefonata è arrivata intorno alle 9.45. Ovviamente è scattato il piano di emergenza, c'è stata l'evacuazione sia dell'edificio che vedete alle nostre spalle, la sede principale dello scientifico, e sia dell'edificio che si trova in Viale Bovio, che ospita alcune classi dell'Einstein. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i vigili urbani. Non sono stati chiamati gli artificieri, i vigili urbani hanno bloccato la strada e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo. Non è stato trovato nulla di sospetto, per cui nel giro di poco più di mezz'ora i ragazzi sono stati fatti rientrare in classe. Allora diciamo che noi abbiamo un triste primato, che è quello di essere gli antesignani degli allarmi bomba. Bomba, anzi ogni anno avevamo un episodio ricorrente nel mese di maggio. Quest'anno non solo è stato anticipato, ma la pratica è stata reiterata e sperimentata in altri istituti, e ora una recidiva di nuovo al liceo scientifico. Cosa accade? Che avendo noi due sedi è tutto più complesso, perché coordinare anche con i miei collaboratori, che sono stati efficientissimi, tutta l'evacuazione è complesso ed è un'assunzione di rischio e di responsabilità. Intendiamo collaborare effettivamente con le forze dell'ordine, fornire tutti gli elenchi delle classi in cui erano previste delle verifiche, un applauso anche alle forze dell'ordine che velocemente hanno attuato il protocollo, quindi hanno bonificato i luoghi, e si sono preoccupati perché questi ragazzi non perdessero ancora l'ennesimo giorno di scuola.